Maria Chiara Carrozza, pisana, fisico, ingegnere, un curriculum straordinario, non soltanto di ricerche, di incarichi e di pubblicazioni a livello internazionale, ad altissimo livello, prima presidente donna del CNR, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, perché mai dovrebbe essere una notizia? Infatti secondo me non è una notizia. No, lo è, lo è. Perché? Perché è una notizia? È una notizia perché è la prima donna in quasi 100 anni. È una notizia per me, perché non me l'aspettavo di fare questo passaggio e poi quando ho fatto la domanda all'avviso pubblico ci speravo, però è stato un cambiamento molto rapido. È una notizia per tante ragazze, giovani donne, anche donne più mature, di speranza di poter salire fino ai livelli più alti istituzionali. Lei è stata anche la più giovane rettrice di un'università italiana. La inquietano, la imbarazzano un po' tutti questi record? Sì, moltissimo. Io sono timida in realtà, anche se non sembra, ho fatto poi una carriera sempre molto esposta, però sono anche molto riservata e quindi insomma non dico che arrossisco, però mi intimidisco un po'. Che ragazza è stata? Come si direbbe una secchiona, cioè una tutta a studio e casa? Ha avuto una famiglia, è nata in una famiglia di accademici, quindi immagino sia stata supportata parecchio. Dunque sì, sono stata molto amata, la più piccola di tre fratelli e i miei fratelli erano molto più grandi di me e quindi erano un po' una seconda linea di genitori dopo i miei genitori. Molto amata anche dai parenti che ancora oggi mi scrivono quelli che abitano lontano, che non vedono mai e dicono che sono orgogliosi di me. E credo che l'amore faccia tantissimo, al di là di tutto. E poi sono stata una ragazza studiosa, molto studiosa all'università, molto meno al liceo, al liceo mi sono anche molto divertita. Giustamente. Senta, ma com'è nata questa passione, questa scelta per... Non stiamo parlando di un secolo fa, quindi insomma non era l'unica sicuramente, però scegliere fisica, scegliere bioingegneria, insomma era comunque particolare. Ma sicuramente la scelta vera è stata quella di studiare fisica, perché insomma io mi vedevo più fare medicina, poi avevo avuto una passione per la letteratura francese. Come mai? Ma io penso che siano le insegnanti, ho avuto due insegnanti che veramente mi hanno cambiato la vita. L'insegnante di fisica e matematica, del liceo degli ultimi tre anni, e l'insegnante di francese. Anche con loro sono sempre in contatto. Mi hanno aperto il mondo dello studio, non avevo a quel tempo tantissima voglia di studiare, però con la loro guida ho imparato la bellezza, insomma, dello studio. Della poesia. Poi il Rimbaud, Baudelaire, quando si era ragazzi. Esatto, ovviamente. Sono passioni comuni, no? Formative. Senta, che cos'è la bioingegneria? La bioingegneria è una terra di confine fra l'ingegneria, meccanica, elettronica, informatica, e la biologia, le scienze della vita e la medicina. È una disciplina che vuole sviluppare tecnologie, sistemi, metodi da applicare nel mondo biologico e della medicina. E la biorobotica cos'è? Perché questo termine è un po' robotica cinquieta, no? Sembra una disciplina tesa a togliere libertà all'uomo. Ma io direi che la dà, perché la biorobotica è un po' la fusione fra la robotica e il mondo vivente, la biologia, la medicina, e serve a sviluppare quella robotica che poi diventa un'estensione delle capacità di una persona disabile o con delle malattie. Quindi per me la robotica e la biorobotica dà la libertà di alzarsi, di camminare, di prendere gli oggetti. Insomma, per me è il recupero della funzionalità. Una scienza a servizio dell'uomo? E questo è il suo campo di lavoro, no? Sì, sì. Decisamente io ho sempre voluto, insomma, dopo una certa età, perché non è stata una scelta proprio fin dall'inizio. Però dopo i 35 anni, dai 35 ai 40 anni, ho maturato questo desiderio di sviluppare una scienza, una tecnologia al servizio della salute. Perché? Perché la voleva fare il medico da ragazza? Ma forse, anche perché, insomma, a quei tempi lavoravo molto per la chirurgia assistita, da calcolatore, microstrumentazione chirurgica. Però mi sembrava un settore anche molto ricco, dove c'erano grosse compagnie, grossi interessi. E quindi anche molto bello, interessante e affascinante. Non che si curano anche, soprattutto con la chirurgia. Però c'era un campo, quello della disabilità, che vedevo povero. Insomma, mi sembrava come un mondo dove le comunità di disabili, le persone con disabilità, fossero anche marginali, non di interesse industriale, anche perché sono pochi, no? L'industria c'è dove c'è tanto bisogno e quindi tanti prodotti. Insomma, ci sono anche delle ragioni complesse da spiegare, che non posso ora, come dire, tutte approfondire. Però l'idea era quella di fare qualcosa per un mondo più povero e più marginale, quello della disabilità, degli amputati. Facciamo degli esempi? Braccia, arti meccanici, esoscheletri, queste sono le prime cose che mi vengono in mente? E questo campo, la biorobotica? Sì, sì, questo sicuramente è stato il mio campo, non è tutta la biorobotica. Io mi sono occupata moltissimo di protesi di mano, ho studiato la protesi cibernetica e quindi ho fatto uno dei primi progetti, anche europei, che si chiamava proprio Cyber Hand, al quale io sono affezionata molto, in cui mi sono trovata anche un po' leader, team leader si dice, cioè leader del gruppo. E per la prima volta, insomma, avevo una responsabilità mia, ecco perché oggi ho molta attenzione alla responsabilità dei giovani, dei giovani ricercatori, delle giovani ricercatrici, perché secondo me non è una questione, con dire, di individualismo, è una questione di dare una responsabilità, avere il coraggio di dire le persone a 35 anni sono pronte per essere dei team leader. C'è interesse da parte delle grandi aziende a sviluppare questi prototipi, questi progetti a livello industriale, in modo da mettere a disposizione tutti? Ma sono campi molto diversi, io da ingegnere devo dire che c'è differenza, nel senso che le protesi di mano, sicuramente c'è interesse industriale, ci sono sempre più start-up, ma è anche un campo molto monopolizzato da grandi company, perché ci sono dei brevetti molto decisivi che quindi tendono a escludere l'innovazione e perché è molto complesso fare una protesi di mano e per fortuna gli incidenti sul lavoro che riguardano la mano sono meno di prima, anche se oggi assistiamo a tanti... Purtroppo sì. Sì, che non è bello ascoltare tante notizie. Siamo tornati indietro, naturalmente. Decisamente. Senta, lei ha collaborato e collabora con prestigiose università e centri di ricerca e quindi la domanda è d'obbligo. Perché è rimasta in Italia? Ma dunque, per tante ragioni. Una sicuramente il fatto che la mia famiglia era qua e quindi volevo essere qua. Alla fine è un po' come ritornare, avere sempre il nido dove tornare è molto importante. Per me lo è stato. Non volevo sradicarmi completamente. Il secondo, perché per me il viaggio è molto importante, è parte della mia vita. Io credo di essere una delle persone che ha viaggiato di più. Ma il viaggio ha per me molto senso quando si porta poi a qualcuno e si porta indietro un'esperienza. E questo ce l'ho sempre avuto. E la terza ragione è anche perché io ho avuto molto dall'Italia, soprattutto dalla scuola superiore Sant'Anna di Pisa dove io ho fatto il dottorato. ho avuto talmente tanto che ho sempre avuto anche il desiderio di riportare alla scuola Sant'Anna quello che avevo avuto. Insomma, per me dieci anni dai 27-28 anni ai 37-38 anni alla scuola Sant'Anna mi hanno formato per sempre. Io ancora oggi sfrutto quello che ho imparato in quegli anni. Senta, lei si è impegnata anche in politica nel campo dell'università ricerca e istruzione e è stata ministro. Il tema della ricerca a Noso è solo questione di fondi o c'è anche una mentalità che non considera a sufficienza l'importanza della ricerca nel nostro paese a livello anche di percezione comune di opinioni pubbliche e immediati? Ma sicuramente è una questione di fondi nel senso che è vero che in Italia il rapporto fra l'investimento che si fa e il PIL è più basso che in altri paesi quindi dovremmo fare di più sulla base proprio del nostro PIL. Adesso il recovery la spinta la darà? Il recovery darà una spinta sicuramente ma deve essere una spinta che rimane non una spinta temporanea. Questo per me è un concetto molto importante cioè non che ogni anno a ogni legge di bilancio si ridiscute quanto si investe in ricerca deve essere un investimento pluriennale insomma di quelli che si fanno come se fosse il funzionamento del paese pianificato peraltro esatto questo è molto importante sicuramente l'investimento fa poi ci sono anche tanti altri aspetti la burocrazia le regole il diritto amministrativo il diritto pubblico che devono diventare un diritto della ricerca e dell'innovazione questo è un passaggio culturale importante però sicuramente le risorse sono poche La pandemia ha cambiato qualcosa nella percezione della gente? Cioè si è capito quanto conta investire in una scienza come dicevamo prima al servizio dell'uomo? Ma la pandemia ha insegnato molto io credo ha insegnato che la scienza è importante e credo che abbia insegnato soprattutto alle istituzioni che i vaccini di oggi sono il frutto della ricerca fondamentale di dieci anni fa per questo in Italia abbiamo fatto fatica perché noi abbiamo per qualche periodo pensato che fosse possibile investire soltanto nell'ultimo miglio l'innovazione trascurando la ricerca fondamentale questo secondo me è un errore gravissimo insomma ci sono le basi che ha la ricerca fondamentale poi ci sono i frutti ha insegnato anche molto a distinguere io vedo che insomma ci sono alcuni scienziati alcune scienziate che sono apprezzate di più di solito sono quelle che danno il beneficio del dubbio rispetto a quello che dicono che spiegano in modo anche divulgativo i concetti il perché e le ragioni di certe scelte e secondo me è importante questa presenza è importante anche che noi scienziati impariamo a comunicare bene ecco da donna di scienze non è un po' stanca delle continue esternazioni di infettivologi virologi eccetera eccetera in televisione in questo tempo che forse hanno creato più confusione che chiarezza sì 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 sono un po' stanca e infatti devo dire che fanno la differenza quelli che rimarranno che saranno presenti che continueranno sono le persone che più spiegano meglio che la scienza non è una scienza esatta e che tutto quello che si dice questa è una questione metodologica fondamentale deve essere basato sull'evidenza e quando non è basato sull'evidenza deve essere come dire passato per un'opinione io penso questo ma non ho evidenza non ho dati e anche quando c'è l'evidenza si deve dire il margine di errore perché l'evidenza di per sé ha sempre un margine di rischio e poi c'è un sospetto pregiudiziale evidentemente incrementato anche dalle continue detrologie ma qualche volta ci azzecca come diceva qualcuno su un tipo di scienza asservita a grandi poteri e interessi di multinazionali per cui abbiamo sempre il dubbio anche sul caso dei vaccini questo è stato uno dei sospetti fondamentali che tutto serva a incrementare le casse di alcuni ma secondo me ci sono diversi aspetti che sono molto importanti nella comunicazione scientifica dichiarare il conflitto di interessi questo si fa normalmente e a livello mediatico non è chiesto invece secondo me se io Maria Chiara Carrozza vengo a parlare di robot mi si deve chiedere di dire quali sono i miei interessi nell'industria della robotica questo nelle conferenze scientifiche si fa non capisco perché quando si parla su un giornale o una trasmissione televisiva non si debba fare senta come lavora il Consiglio Nazionale di Ricerche? quanti sono? sono tanti migliaia migliaia di ricercatori si va sugli 8000 sono tantissimi tantissime ricercatrici ricercatori tecnologhe tecnologi amministrativi insomma è una struttura molto articolata è molto puntuale sul territorio nazionale e forse è anche affascinante una massa critica enorme che vorrei mettere al servizio del paese auguri lei guida un'istituzione che ha le menti più brillanti e più vivaci del paese allora le domando c'è ancora una separazione tra discipline cosiddette scientifiche discipline umanistiche e in questo tempo le seconde sono sottostimate? ma è vero che sono state sottostimate per anni si confonde il fatto che magari fra i laureati o fra le le persone che vanno a iscriversi all'università ci sia una maggioranza o un certo numero alto di persone che scelgono materie umanistiche senza avere un preciso orientamento no? semplicemente così un po' per retaggio culturale o così come giurisprudenza o altro si confonde questo con l'importanza invece di avere giuristi e letterati che sappiano fare il loro mestiere cioè studiare dire anche esprimere con saggi con posizioni anche un'interpretazione del presente e del futuro che ci deve servire a traghettare in questa fase pandemica quindi io penso che il sapere umanistico sia molto importante questo non significa che devono studiare tutti i materi umanistiche o che non si debba incoraggiare verso l'ingegneria certo naturalmente lei ha due figli giusto? sono in Italia hanno studiato qui lavorano qui? hanno studiato qui e sono in Italia sì per lo stesso motivo nella scelta della mamma? per ora non è detto che restino in Italia glielo domando naturalmente perché immagino che uno dei temi che voi dobbiate affrontare è quello dei giovani cervelli in fuga ma anche dei giovani cervelli sottostimati mortificati precari sicuramente con i miei figli con i miei studenti affronto spesso questo tema perché la fascia d'età fra i 25 e i 35 anni in questo momento è una fascia di giovani sofferenti che si trovano a entrare nel mondo del lavoro nel peggiore tempo possibile sicuramente non è come negli anni 90 quando ho iniziato io che insomma sì era un momento difficile ma avevamo la certezza che qualcosa avremmo trovato mentre ora hanno sempre questo stress la cosa che devo notare di più è che secondo me è molto importante anche per chi ascolta queste trasmissioni è che i ragazzi e le ragazze sono trattati veramente male con tratti che non insomma hanno un tempo troppo breve sei mesi tre mesi gli stagi e gli internship sono pagati in modo ridicolo e questo è veramente un brutto modo di presentarsi come generazione lo dico verso i ragazzi le ragazze li trattiamo troppo male e come mai da cosa dipende non lo so però è una cosa che combatterò poi mi rivolgo alla politica anche perché poi insomma ogni nostra azione è politica quindi ovviamente anche dirigere un'istituzione come il CNR è un'azione politica io penso che risparmiare sul lavoro e sull'ingresso del lavoro dei ragazzi e un utilizzo degli stagi e tirocini in modo così poco appropriato sia veramente un'ingiustizia che dobbiamo correggere e lo dirò e in effetti sono contenta di avere questa possibilità anche di parlare perché raccontare insomma quello che hanno vissuto tante delle persone che si sono laureate con me che conosco per cui è generazionale il problema io seguo molte persone una cosa che a me piace fare è aiutare i ragazzi laureati anche a orientarsi nel mondo del lavoro perché so che hanno bisogno di un mentore o di una mentore è un momento molto delicato quello della scelta e poi è sempre il lavoro che sceglie per noi non siamo noi che scegliamo il lavoro sì e spesso non si può neppure scegliere bisogna piegarsi tanti ragazzi che avrebbero la testa e la volontà di dedicarsi a studi importanti per il paese sono costretti per trovare uno stipendio ad adattarsi a lavori che non costituiscono il loro ideale questo sempre di più e non è un problema europeo anche cioè non dovremmo cercare di metterci in linea con altri paesi visto che si parla di Unione Europea in cui hanno una maggior sensibilità e fondi maggiori per sostenere le giovani generazioni sicuramente è un problema europeo anche se gli stessi giovani con cui sono in contatto io mi dicono che all'estero insomma queste però sono le loro opinioni ma dovrebbero essere studiate queste cose anche un confronto fra l'Italia e gli altri paesi mi dicono che all'estero ci sono più opportunità e la professionalità viene riconosciuta meglio e non c'è questo stress insomma i miei figli molti dei miei studenti sono stati in Erasmus è un problema sa che io ho notato e rientro dall'Erasmus perché a me è capitato di avere studenti che sono andati per esempio in Francia e si sono trovati in un welfare studentesco dico la camera in un dormitorio la biblioteca la palestra il telefono il conto corrente agevolato e una situazione in cui tutti gli esami sono ben programmati tra giugno e luglio e d'agosto si fanno le vacanze queste cose sembrano banalità poi ritorno in Italia e tutto questo viene perso questo cosiddetto welfare vede io credo che in Italia il problema del welfare ci sia cioè sia un problema per le per esempio giovani coppie per i figli avere un welfare adeguato per i propri bambini e bambine poi uno parla di denatalità esatto e così per i giovani lavoratori e i giovani studenti senta signora presidente professoressa come si sente più a suo agio di solito ma al CNR mi chiamano presidente certo e a volte mi fa un po' sorridere Maria Chiara come si sente Chiara per gli amici sono Chiara sì e comunque professoressa soprattutto si sente sì sì professoressa cioè me lo porto dentro se lo porta dentro sì 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 è un po' la mia professione lei è direttore scientifico della fondazione Don Gnocchi lo ricordiamo questo sacerdote che dopo la seconda guerra mondiale era il prete dei mutilatini che si occupava delle vittime della guerra appunto dei disabili e dei bombardamenti e che cosa le dà partecipare di questa esperienza sostenerla conoscerla ma io sono stata perché ho lasciato per concentrarmi sul CNR ma non lascerò mai la fondazione Don Gnocchi perché sono molto legata alla fondazione Don Gnocchi è stata un'esperienza che mi ha segnato e ancora oggi mi commuovo se penso ai giovani pazienti bambini che ho visto anche l'ultima volta che sono uscita insomma ho avuto un colpo e ci tornerò magari farò servizio civile farò qualcosa mi inventerò io sono creativa per questi bambini e bambine e anche per le persone anziane per i disabili per tutti quelli che la fondazione cura è stata la scoperta di un mondo e finalmente la possibilità della prossimità la prossimità aiuta io infatti raccomando spesso anche gli studenti di bioingegneria andate in una struttura cioè stare in un ospedale non è come stare all'università io lo dico da persona che ha vissuto tanti anni dentro un istituto di ricerca universitario ma dentro un ospedale insomma c'è un altro mondo io sono per la rotazione e la raccomando sempre a chi mi ascolta cioè non rimanere sempre nello stesso posto bisogna avere più esperienze questo è importante ci sono stimoli e anche idee che nascono dalla prossimità dalla vicinanza con questi bambini nell'ascolto delle loro esigenze che aiutano anche la ricerca ma quello che aiuta sono i genitori a guardarli vedere la loro aspettativa così alta e anche la gratitudine per quando per esempio ci sono dei robot degli strumenti innovativi vedono i ricercatori che si perdono dietro a questi bambini cercano di di dare qualcosa in più e questo diciamo ti motiva al di là insomma delle circostanze dei pochi fondi delle difficoltà burocratiche ti dà tanta spinta e anche l'aspettativa dei pazienti soprattutto quelli insomma più fragili vedere la fragilità aiuta anche un po' a riconciliarsi con la vita a guardare le cose con la loro come dire dimensione di importanza ecco secondo me questo è stato il valore più grande che ho avuto in questi anni il senso di gratitudine per quello che uno ha e che qualche volta non considera abbastanza esatto il ridimensionamento delle proprie angosce è molto importante per me anche se poi chi soffre non ha facilità nel dimensionare la propria sofferenza rispetto ad altri però sicuramente la prossimità con la fragilità aiuta a dire posso essere importante io nella mia sofferenza nei miei limiti però posso fare la differenza per qualcuno lei è stata chiamata da Papa Francesco a far parte della Pontificia Accademia per la vita che significato ha questa appartenenza insomma questo istituto anche questo così così importante che qualche volta la gente non capisce bene che faccia no? qualche riunione allora questa è un'appartenenza per me molto importante che arriva insomma dopo un lungo percorso che percorso? è un percorso personale di ricerca di riflessione di contributo nell'ambito dell'intelligenza artificiale della robotica perché ho scelto la disabilità poi la fragilità perché mi sono posta a questo problema dell'interazione fra l'intelligenza artificiale e i diritti umani e anche perché ho rotto insomma certe barriere per uno studioso le appartenenze sono sempre molto difficili perché lo studioso sente la libertà vuole essere quello che si sente di essere e invece appartenere a un'accademia come l'accademia Pontificia comporta anche insomma in un certo senso una scelta di lavorare per un certo ambito che può essere considerata come un limite? può essere anche considerata come un limite ma io ho trovato e ho scelto questo perché ho trovato invece un ambiente senza limiti che quasi i limiti li voleva togliere e questa è la prima diciamo considerazione che mi viene da fare ho trovato un ambiente senza pregiudizi che ha un unico grande valore e obiettivo che per me è molto importante che io mi sento di condividere al 100% che sono i diritti umani delle persone e la marginalizzazione lottare contro la marginalità dell'essere umano contro le disuguaglianze per me questo è io mi ritrovo in pieno insomma e quindi abbiamo fatto un percorso insieme e cercherò di sviluppare quest'idea cioè riuscire a a a investigare e mettere in evidenza questa relazione fra la dignità e i diritti umani e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale della robotica e di tutte le tecnologie anche nel mondo dei consumi e nel mondo industriale questo è molto importante l'etica in questo senso è fondamentale l'etica non è mai un volontarismo una determinazione nasce da una concezione della realtà da un senso che si dà alla vita no? esatto per me è molto importante l'uguaglianza e lottare contro la prevaricazione e lo sfruttamento e quindi oggi insomma ci sono stati dei periodi in cui abbiamo avuto per esempio le armi nucleari che ha combattuto contro le armi nucleari oggi abbiamo un utilizzo scorretto dell'intelligenza artificiale degli algoritmi e della transizione digitale che potrebbe impoverire ed è giusto che le istituzioni sovranazionali come la Pontificia Accademia lavorino per arrivare a una consapevolezza internazionale su questo tema quindi il mio sogno non posso dire che è il sogno degli altri ma il motivo per cui io sono lì il mio sogno è sviluppare un'etica universale dei principi universali i diritti universali dell'uomo sono ciò che ci muove oggi nelle istituzioni democratiche il cristianesimo dovrebbe essere l'esaltazione dell'umano e quindi aiutare esatto in questo senta è vero che lei ha la passione per la cucina giapponese quindi voglio chiedere tra tutti questi studi ricerche questi enormi obiettivi si rilassa così? allora sì a me piace molto mangiare giapponese non sono in grado di cucinarla ma mi piace anche la cucina coreana e quella cinese perché ha viaggiato tanto lì esatto e mi piace anche la cucina latino-americana e mi piace il Sud America a me piace fulgian insomma sì 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 io sono per la cucina fusion mi piacerebbe avere il tempo e la pazienza i miei amici e i miei figli dicono che io non ho pazienza vorrei tutto e subito perché sono talmente paziente nel lavoro si dice sempre così ma questo è un modo è uno svago anche un divertimento nel senso di volgere la testa anche ad altro in questo senso le facevo la domanda cucinare cucino ovviamente fusion le mie interpretazioni che sono sempre un po' veloci però insomma per me la cucina è un momento di estremo relax come lo yoga è come lo yoga esatto ed è anche un modo di aiutarsi a guardare alle persone di fare qualcosa per loro no? cioè c'è sempre sì la cucina è un modo di vivere e socializzare e quindi a me piace cucinare per gli altri e lo yoga mi ha anche insegnato molto perché li metto in relazione perché il mio tempo libero poi è lettura yoga cucina queste cose lo yoga mi ha insegnato tanto io pensavo fosse molto individualista poi mia figlia mi ha convinto durante il lockdown e in effetti aiuta a mettersi in pace con il mondo a focalizzarsi sul presente e mi piace moltissimo da questo punto di vista ringraziare quel che si ha sì in effetti le chiedo una musica una canzone con cui chiudere questo dialogo non so se lei ama anche la musica sì amo molto la musica la mia musica preferita è il requiem di Mozart che io ascolto molto spesso anche questo aiuta a riflettere come lo yoga mi piace mi piace grazie tantissime buon lavoro in bocca al lupo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti